Adesso aspettiamo di vedere il pirata, Bogaerte in prima posizione, eccolo là, eccolo là sulla sinistra, si è tolto la pantana, eccolo là sulla sinistra, si è tolto la pantana, vai Rocco, vai! Pantani sulla sinistra, attenzione, pantani sulla sinistra! Pantani sulla sinistra, attenzione, 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 attenzione Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti